Ciao ragazze, mi vedete toccata così perché questo è un video in collaborazione con altre tre bellissime ragazze, Cristina, Deborah e Patrizia. Nell'info box vi lascerò i loro canali e a fine video vi lascerò gli altri tre video collegati a questo video. Questo è un video sorpresa, un video dedicato alla diva del tubo ad Alicia di cui io faccio parte del suo fan club insieme alle altre tre ragazze. E questo è diciamo un trucco scenico, quindi un trucco sui toni del nero, i toni del fucsia e il leopardato che lei ama molto. E niente, allora io vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo. Ciao! Grazie 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 preferito non metterlo, però se voi volete mettere anche il mascara potete fare come vi piace di più. Ecco ragazze, trucco finito, spero che vi sia piaciuto. Qua sotto vi lascio i video delle altre tre ragazze, Cristina, Deborah e Patrizia, che hanno collaborato con me alla realizzazione di questo speciale Alisha, alla diva del tubo, che io mando un grande bacio, saluto tantissimo. I video verranno rappresentati con qui il look giorno, in mezzo il look sera e è qui il make up giorno. Ripeto, le tre ragazze, Patrizia, Deborah e Cristina, lascerò sotto nell'info box i loro tre canali. Mi raccomando, andate a vederle, andate che sono bravissime, bellissime e dolcissime. È stata una collaborazione piacevole e bellissima. Io saluto anche tutte le divette, tutte le ragazze che fanno parte del gruppo fan club della diva del tubo, a cui mando un grande bacio e vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!